Roma, 71 d.C. Le notti dell'urbe sono sconvolte da misteriosi omicidi. Alcuni uomini, appartenenti alla setta del Cristo, vengono catturati e crucifissi come il loro Dio fattosi uomo. Ad indagare viene chiamato Flavio Maglio Dentato, generale delle legioni stanziate in Pannonia. L'uomo, che nasconde a sua volta un doloroso segreto, scoprirà un complotto atto ad eliminare gli adepti della nuova fede. Il vento di Dio, un romanzo, di Dario Gigli, finalista a prima edizione, premio letterario RAI, La Giara.